Eccoci, ci siamo, guarda che roba! Sì, buongiorno, guarda che meraviglia! Buongiorno, buongiorno! Oggi non fa freddino! No, siamo in piazza Duomo a Como, con l'albero, con il broletto illuminato, ma con un'altra magia, giusto Sciurornella? È stata una bella sorpresa! Un bel regalo di Natale! Un regalo, un primo regalo di Natale, perché speriamo di averne altri in questo punto. Forse è già aperto! È certo che è già aperto! Eh no, l'ho vista adesso! Buongiorno, allora signori e signore, buongiorno! Vedete che meraviglia! Entriamo dalla parte, dalla porta centrale del Duomo! Entriamo dalla porta centrale del Duomo con una sorpresa! Adesso troverete buio, ma per un motivo, quindi tranquilli, poi... Ecco! Sentite che meraviglia! Questo è l'inno della nomina di Natale! Wow, aspetta, è tutto buio, non vedo niente! Aspetta, aspetta che devo cercare di fare la luce, aspetta! Vediamo! Eh, vediamo! Aspetta un attimo! Senti! Questo è l'inno! Vieni con un attimo che cerchiamo di vederti, che non riesco a vederti con la luce! Non fa niente! Comunque adesso piano piano ci avviciniamo in un'altra postazione del Duomo! Ok! Questo è l'inno della novena di Natale! Vai a accendere tu, così almeno, perché sennò purtroppo non riusciamo a vedere nulla per il momento, è tutto buio, ovviamente, perché proprio per noi, amici di Ciocomo, questa mattina hanno spento le luci del Duomo e tra poco ci sarà davvero una grande sorpresa! E quindi un saluto intanto ai nostri amici, a Gianfranco, a Simona, buongiorno, a Sergio, a Valeriana, aspetto ancora un attimo qua fuori... Ecco qua, perfetto! Ci siamo! Ok! Andiamo a raggiungere la Sciura Ornella, siamo nel Duomo di Como, una grande emozione! Andiamo al centro, Ornella! Da qua ci fanno passare, guardate che meraviglia! Mamma mia, Ornella, che bello questa mattina! Sciura, ci hai fatto un regalo bellissimo! Molto bello, molto significativo, perché questa è la parte principale del Natale! Mamma mia, che bello! Per noi cristiani! Certo, certo! C'è chi non crede, ma la, diciamo, la sorpresa è questa, che adesso andiamo a vedere! Ok, Ornella, io ti seguo rigorosamente, buongiorno a tutti, intanto i saluti li facciamo un po' generalizzati questa mattina, perché come vedete e come sentite... Guarda, questi, arriviamo fino a qua, grazie, ma ringrazio veramente il capitolo del Duomo di questo... Ok, e si accende la luce, ecco! Guarda che meraviglia! Oh là là, che spettacolo Ornella, che ci hai fatto questa mattina! Vi volevo... Perché il Natale, come hai detto tu, il Natale è cristiano, è questo, signori, siamo nel Duomo di Como, che magia! Io non l'avevo, ammetto, mai visto questa sorpresa e soprattutto questa emozione, la musica, quindi ringraziamo... Siamo il capitolo del Duomo, veramente, veramente grazie! Per averci fatto questa... Allora, perché siamo qua? Perché siamo nel periodo d'Avvento, siamo nella novena di Natale. Questi sono alcuni profeti della nostra... Esatto, come dicono i nostri amici, e luce fu, Marilena dice che è una grande meraviglia, e anche Savina apprezzano, insomma, tutti apprezzano questa bellezza del Duomo... Parliamo da... Questi sono i profeti, esatto, Isaia, Daniele, Zaccaria, Amos... Troviamo anche Mosè e Davide, anche se sono considerati profeti, ma sono condottieri. Esatto. Là c'è un brano del Vangelo, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, perché questa è la statua di San Giuseppe. E questa è la statua di San Giuseppe, è vero, ed è una meraviglia assoluta questa qua del Duomo. Allora, San Giuseppe, che come abbiamo sentito domenica nel Vangelo, è chiamato l'uomo del silenzio, perché Giuseppe non parla nel Vangelo. Perché ho voluto portarvi qua? Perché questa postazione con i vari profeti ci sarà solo fino a domani, perché da giovedì qua allestiranno il presepe, che magari verremo a visitare ancora, perché è bellissimo quello che faranno all'interno del Duomo. Quindi fino a domani dovremmo esserci i profeti. E allora facciamo vedere anche gli altri che sono qua. Adam, Malachia, noi adesso stiamo leggendo Isaia, perché nel tempo dell'Avvento noi leggiamo Isaia. Dal tronco di Iesse nascerà il virgulto, nascerà dal tronco di Iesse. Oppure un'altra frase tipica, una vergine concepirà un figlio che si chiamerà Emanuele. Egli fu annunziato da tutti i profeti, la vergine madre l'attese e lo portò in grembo con l'ineffabile amore. Che bello. Giovanni, questo è... Che bello, Ornella, davvero grazie. Vedo che i nostri amici sono entusiasti tutti di questa sorpresa che tu ci hai fatto. E' una bellissima presenza scenica, c'è anche la musica. Molto bello questo, questo ino è molto bello. E' un orgoglio anche incredibile essere qui questa mattina nel Duomo deserto, perché ci siamo solo io e te. L'hanno aperto apportatamente per noi, ma per voi ascoltatori. Che bello, grazie. Perché ci state, perché siete amici e come amici ci hanno voluto fare questo regalo. Mi volevo darti un abbraccio fortissimo, perché è un momento veramente bello. Grazie, Ornella. Valeva la pena, anche con il passaggio a livello abbassato. C'è miseria quel passaggio a livello lì che mi fa sempre arrivare in ritardo. Allora, aspetta, al volo Cecilia, Michela, Fausta, Carla, buongiorno, Milko, anche a te. Clara, Ale, Monica, Margherita, Sandra, Sergio, Maria Teresa, insomma tutti voi che ci avete scritto, grazie. Sentite anche la musica di Natale sullo sfondo, ci saluta anche Alessandra, buongiorno a tutti. Presepe, quindi, o meglio, questo è l'allestimento con i profeti, per il momento qui all'altare del Duomo. Per esempio, notiamo nella statua di Davide, dove sotto c'è la testa di Golia. La vedi? È vero, vieni qua, vieni qua, Ornella. È vero, Davide, esatto, con la testa di Golia, è vero. Con la tavola della legge. Con le tavole, con la tavola della legge. Esatto, esattamente, esattamente. Poi naturalmente i profeti invece hanno in mano i libri. Anche Luigi apprezza che li abbiamo fatto vedere Ornella. Una cosa particolarissima, proprio nella settimana del Natale, Ornella, brava e grazie. Brava, brava, io non ho fatto niente, bravi a chi ha investito. No, 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 ci hai fatto entrare, beh, non è scontato quello che abbiamo fatto vedere questa mattina, quindi grazie alla Sciura Ornella, grazie alla famiglia Comasca. La Sciura Ornella sarà ancora con noi in questi giorni. Veniamo a visitare il Presepe a questo punto. Veniamo a visitare il Presepe e Ornella, poi magari faremo anche un Cruciverba in studio in questi giorni, giusto per fare gli auguri ai nostri gentili radioscoltatori. Grazie davvero, signori, per averci seguito. Se vogliamo entrare, vediamo ancora il nostro Duomo. C'è ancora la musica di Natale. Ma che bella sorpresa che abbiamo avuto. Signori, grazie anche per averci seguito. È un Duomo deserto, come vedete questa mattina. Faccio notare una chicca. Dimmi, Ornella. Ti segni? Non tutti hanno. Qua, guarda, vedi questa lapide? Questa lapide, sì. Allora dice che qua si sedeva sempre Alessandro Volta, perché così sentiva bene. Qui si sedeva Alessandro Volta? Esatto. Mamma mia, che sorpresa bellissima anche questa qua. Non lo sapevo, giuro. Non lo sapevo. Abbiamo fatto due chicchi, però guardate la meraviglia. Meraviglioso davvero il Duomo a quest'ora. Grazie ancora. Non è scontato. Al capitolo del, si chiama proprio così, al capitolo del Duomo che ci ha fatto vedere questa magia. Per chiudere, salutando ancora tutti voi, gentili telespettatori e radioascoltatori, questa mattina è un calendario dell'avvento veramente particolare, suggestivo. Nei prossimi giorni avremo qualcosa di un po' più leggero, perché abbiamo anche lo sponsor che dobbiamo salutare, gli amici di AutoVM, ok, ma oggi era giusto fare questa cosa. Quindi Elena ti fa i complimenti perché è particolare, suggestiva, davvero. Venite a visitarlo, potete venire perché l'uomo è aperto. È aperto sempre, non è aperto per noi, però è sette e mezzo, un quarto reato. E vedo che c'è anche qualche visitatore, qualche fedele che è venuto. Quindi fino a domani potete vedere i profeti e poi vi faremo vedere anche il bellissimo presepe in allestimento. E' stato una magia, un risveglio bellissimo, devo dire grazie all'Asciura con un abbraccio fortissimo, ci hai sempre deliziato di cose belle. Questa mattina ci hai sorpreso, come ha scritto il nostro amico, non mi ricordo più chi, e luce fu, perché questa è stata davvero una cosa meravigliosa. Aspetta che mi indica un'altra chicca. C'è un'altra chicca da far vedere. Vedete, intanto il duomo si è acceso, perché è stato aperto. In questo momento il duomo di Comò è aperto. Il duomo di Comò è aperto. È aperto. La corona è la domenica d'avvento. Le abbiamo consumate tutte, diciamo, perché la quarta domenica... Grazie. Arriviamo. Per le quattro candele e per le quattro domeniche d'avvento. Ti lo sai dietro Don Flapio? Sì, non ho capito, però fai niente. Allora, benissimo. Eccolo qui, guardate. In mezzo c'è la parola. Ah, wow, arnella, ma che cosa... E queste sono le quattro candele. Per le quattro domeniche d'avvento viene accesa una candela ogni domenica. L'ultima è stata accesa domenica scorsa. Grazie, molto gente. Ma già, vero, grazie. Allora, in punta di piedi, direi, e con doveroso rispetto, sull'altare del Duomo di Comò... Finiamo, perché questo è il Natale, il Natale vero, poi, è questo qui. Dell'avvento, proprio, dell'attesa, non ancora, questa è l'attesa, è l'attesa della venuta del Signore. Mamma mia. Grazie. Grazie, Ornella. Un saluto e un abbraccio. Grazie a tutti per averci seguito. Grazie, grazie, veramente. Il nostro Duomo è eccezionale, in tutti i sensi. Davvero, bellissimo. Grazie, Ornella. Un saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.